C'è il vecchio Palasport di Viale dei Partigiani che da troppi anni rimanda all'appuntamento col diventare il nuovo Auditorium Scavolini e c'è l'impianto Facchini di Via Togliatti che aspira a metterci molto meno nell'allargarsi a tutti gli effetti a Casa VL e Centro Federale del Basket Regionale. Insomma, passato glorioso e futuro speranzoso della pallacanestro cittadina che si accomunano dallo essere lo stretto presente dell'agenda di lavori del Comune di Pesaro. Sul vecchio Palas il Comune ha smesso da tempo di fare previsioni di consegna ma siamo all'80% del lavoro e manca l'ultimo decisivo miglio relativo all'intera impiantistica. Già spesi oltre 6 milioni di euro, ora c'è l'appalto finale da 3 milioni e mezzo di euro al cui bando hanno dato manifestazione di interesse ben 120 ditte. Ora ci sarà una fase di progettazione esecutiva alla quale seguirà l'estrazione di 10 aziende delle 120 presentate sulla quale si costituirà la vera gara per arrivare alla consegna dell'opera. Gara di progettazione che è invece già una ditta incaricata per quello che riguarda il progetto esecutivo della realizzazione della palestra di Via Togliatti affiancata alla piscina e collegata all'edificio del pentatron moderno dell'impianto Facchini. Il comune ha scelto lo studio di ingegneria inteso di Rimini per avere la progettazione esecutiva entro il 31 dicembre di quella palestra che diventerà la cittadella del basket voluta dalla federazione pallacanestro per le marche. Lavoro incaricato dallo stesso studio che ha progettato la scuola Brancati di Via la Marmora, lavoro che potrà beneficiare di ben 4 milioni di euro arrivati dal PNRR attraverso il bando Sport e Inclusione.